Si vivono ore di grande tensione in casa di LF Nista Rugby, che al suo quindicesimo anno di età rischia di non poter prendere parte ai campionati federali. La prima tegola si è abbattuta con il rinvio d'ufficio da parte della federazione della prima giornata del campionato di Serie C, a cui partecipa la società presieduta da Giuseppe Lo Celso. Lo stadio di Caltanissette e il Marco Tomaselli allo stato attuale non è omologabile. Se non si dovesse intervenire tempestivamente per porre rimedio al problema, la società nissena della palla ovale sarebbe estromessa dal campionato regionale. Una situazione incresciosa quella del Tomaselli se non dovesse essere sanata e se la DLF Nista Rugby dovrebbe rinunciare completamente all'attività che sembra attualmente non avere una fine. Abbiamo contattato in merito l'assessore Fabio Caracausi che ci ha detto che si sta lavorando al meglio affinché la situazione e soprattutto lo sport esca vincitore da questa vicenda e si sta lavorando con entrambe le federazioni.